La partita con Ranicki mercoledì sarà una partita tosta. Loro hanno una buona squadra, hanno fatto già dei grandi risultati a casa e noi andremo ovviamente a cercare di vincere la partita, cercando di giocare il meglio possibile e provare a tornare a casa con i punti che ci servono per poi arrivare alla fine con la possibilità di arrivare al secondo posto. Il primo posto è un po' difficile raggiungerlo perché ovviamente dobbiamo aspettare qualche risultato negativo del Barceloneta, ma noi comunque dobbiamo puntare al secondo posto e poi se loro capita che perdono qualche punto va bene per noi. Sicuramente qua a casa noi dobbiamo giocare come abbiamo fatto sempre, con la piscina che sarà piena sicuramente, le ultime partite è stato molto molto bello e speriamo che vengano tutti a tifare noi per le finali e le partite importanti che restano della stagione qua a casa. Io fisicamente sono contento, ho dimenticato completamente l'intervento che ho fatto, oggi sono in forma per poter aiutare la squadra e poter dare il massimo e sono molto contento per quello.